Sulla luna, Pier Giorgio, e poi lo chiederò anche a Urzi, ci sono molti dibattiti, tra l'altro si chiede questa luna sempre di un certo colore, un colore grigio, ma in realtà noi abbiamo trovato anche delle immagini di una luna colorata, poi se la regia la trova la metteremo. Insomma, che idea ci siamo fatti Pier Giorgio di questo sbarco lunare connessione con l'Upo? Allora, Armstrong, come tutti gli astronauti lunari, invece di fare una gloriosa e anche ricca carriera nella NASA, se ne sono tutti andati via dalla NASA, il che è stranissimo perché sono gli unici uomini al mondo. Anche i tecnici sono stati licenziati, è una storia vera perché anche molti tecnici e scienziati che avevano contribuito al lancio, a costruire proprio il LEM, a costruire l'Eagle e tutto, poi sono stati improvvisamente licenziati dalla NASA. Nel caso degli astronauti lunari, Phil, sono andati via loro, quindi il problema qual era? Cosa è accaduto nella luna? Ti stavo dicendo, Armstrong, uscito dalla NASA, era ossessionato dagli extraterrestri e si girava il mondo andando in tutti i luoghi dove si sapeva che c'erano delle basi. Questo lo so per certo perché io sono in contatto a tutt'oggi con persone che sanno e hanno le prove assolute di questo, a parte che ci sono anche delle foto, ad esempio, di Armstrong che si trova all'interno di un luogo che si chiama la Queva dello Staios in Ecuador, che sono delle zone dove avvengono certe cose. Quindi, la luna perché? Perché sulla luna ci sono delle installazioni di questi esseri e la luna, se noi andiamo a cercare sassi lunari o sabbia lunare su Google Immagine, troviamo che i sassi lunari e la sabbia lunare hanno gli stessi colori dei sassi e della sabbia della Terra, cioè c'è sabbia nera, sabbia grigia, sabbia gialla e così via. Perché ce la fanno vedere tutta grigia come se fosse un corpo incenerito? Il problema si è creato, ecco questa foto bellissima che mostra i veri colori della luna, il problema si è creato perché le installazioni extraterrestri sulla luna sono protette da gigantesche cupole che ovviamente proteggono le installazioni dalla caduta meteorica. Quindi si sono inventati i cosiddetti crateri cupolari, ora poi mi si dovrebbe spiegare come un cratere può essere cupolare o è un cratere o è una cupola, è come dire che io ho un bicchiere vuoto pieno, o è pieno o è vuoto. Il problema è che queste cupole sono colorate, molte sono bianche, molte sono celestine, altre sono blu elettrico, quindi come fai a spiegare alla gente che ci sono questi colori e ci sono tante cose che è meglio non vedere? Per cui alla fine si è deciso di confondere il tutto con un tono di grigi, si dice che di notte i gatti sono tutti bigi, ecco la NASA ha applicato lo stesso discorso, ma se noi andiamo a cercare e a sfrugugliare, ad esempio c'è una missione molto importante degli anni 90 della sonda Clementine, che dietro la quale c'era anche lo stesso istituto che gestisce lo scudo spaziale americano e in queste foto ad altissima risoluzione e a colori si vede di tutto, è strapieno di cose, ci sono altre foto poi degli anni 60 delle prime missioni delle sonde robotiche dove si vedono oggetti che camminano, si vedono installazioni, si vede di tutto, però sai quando tu... Però in tutte queste foto che tu mi stai dicendo, spezzo ancora la spada per il diavoletto, chi ci dice che non sono, diciamo, per depistarci, sono veri, sono reali, sono create in uno studio fotografico? Questo è come quando accusarono Gesù di essere il capo dei demoni, lui disse ma se io vado contro Satana e se il regno di Satana è diviso in se stesso cadrà presto, quindi siccome questo è materiale che io prendo direttamente dai siti della NASA, o la NASA fa il doppio gioco, cioè smentisce per affermare oppure in realtà nasconde, perché comunque ovviamente io non ho la possibilità di andare sulla Luna, ma siccome ci sono i siti ufficiali, basta andare lì, ad esempio se tu vai in un sito abbastanza recente, adesso non mi ricordo il nome, dove la NASA ha pubblicato, credo, oltre 10.000 foto delle missioni Apollo che erano rimaste nei loro archivi, siccome ormai della Luna non si interessa più nessuno, queste foto non sono manipolate, lì vedi bene che i colori della Luna, cioè il suolo lunare è marrone come quello della Terra. Da poco è uscito un film che è praticamente un videomaker americano, ha scoperto che c'era del materiale in 70 mm girato durante il lancio dell'Apollo 11, ma è una roba enorme, e ha pubblicato un documentario che io ho visto pochi giorni fa, la qualità dell'immagine è eccezionale, perché 70 mm sono le pellicole da cinema, e praticamente siccome è materiale uscito ora dagli archivi, non è stato manipolato da questo videomaker, si chiama Apollo 11.